Tagliare e riformare, nel senso che noi abbiamo chiesto già da un anno al governo che venga data attenzione alle piccole e medie imprese. Questo non vuol dire necessariamente pagare meno tasse, è ovvio, pagare meno tasse significa essere competitivi sul mercato internazionale, ma questo vuol dire avere dei servizi di ritorno dalle tasse. Ma la cosa che più ci spaventa è che noi paghiamo tante tasse perché c'è tanta spesa pubblica. Noi prendiamo con interesse che in Senato è stata approvata ieri la riduzione dell'IRES. Le leggo le percentuali che dovrebbe passare dal 33% al 27,5% e la riduzione dell'IRAP che dal 4,25% dovrebbe andare al 3,9%. Noi dovremmo essere ottimisti, in realtà se andiamo a guardare meglio c'è stato un ampliamento della base imponibile, cioè un maggior valore quindi soggetto a tassazione. Cosa dire? Speriamo che il saldo finale per noi sia positivo, ma siamo veramente preoccupati, non fiduciosi. Il problema è molto più politico, il problema è che si sta giocando al bicchiere mezzo piano e mezzo vuoto ai magheggi. La verità è che andrebbero coraggiosamente individuati dei settori su cui agire e riteniamo che ovviamente per rimettere in moto la società sia necessario individuare l'impresa o la piccola e media impresa che rappresenta il 90% delle aziende italiane. Con coraggio, perché sarebbe un qualcosa di solo momentaneamente che riscuota poco successo. In realtà poi alla lunga ridarebbe al governo anche quel po' di voti che potrebbe perdere. Lo studio di settore denuncia inequivocabilmente la distanza che c'è tra il mondo della politica e il mondo reale. Questi signori non si rendono assolutamente conto che soprattutto in alcuni tipi di aziende magari fosse possibile presumere quello che succederà. Lo studio di settore peraltro è una presunzione secondo noi di un qualcosa, una presunzione non dimostrabile, quasi una presunzione di reato che poi sta a noi dimostrare che non è in quella maniera. Quindi ritorniamo al solito fatto, è una questione di comprensione politica e soprattutto la necessità che il politico sia politico di mestiere ma che sia più vicino al mondo reale. Il governo fa finta di impegnarsi sulla riduzione dei costi della politica. Ieri al Senato, l'abbiamo letto stamattina sul giornale, c'è stata la proposta di dimezzare l'indenità dei parlamentari. Ben è stata bocciata con ben 266 no. Ora, forse dimezzare era troppo, ma un segnale, buon Dio, oggettivamente ce l'aspettavamo. Il welfare italiano per essere riformato ha bisogno di buonsenso, ha bisogno di scelte coraggiose, ha bisogno che non si diano poche liri a tutti sperperandoli, ma che si facciano per far ripartire tutto il sistema degli investimenti chiari, pochi ma precisi, diretti e soprattutto chiari. Proprio nel nostro documento politico, ho citato Boeri, è la soluzione perché in questa maniera effettivamente c'è una distanza troppo forte tra quelli che si chiamano lavoratori standard, tra quelli che si chiamano lavoratori assunti, c'è anche una grande confusione. La proposta di Boeri noi vorremmo poterla assumere, direi che è la strada più sensata, non è di certo il luogo di Colombo, in tutte le aziende il lavoro è legato al merito, il problema semmai, quello che io vedo molto più grosso, è di far legare al merito anche il lavoro dei dipendenti pubblici, noi abbiamo contratti completamente differenti tra il settore privato e il settore pubblico. Il federalismo può anche servire nel momento in cui però le regioni avessero il piano potere di poter prendere decisioni senza sovraccarichi burocratici che ci sono in questo momento, quindi il federalismo che serve è un qualcosa che ci aiuti a diminuire l'aggravio della burocrazia e soprattutto ad avere risposte in tempi certi. C'è un problema molto più grave secondo noi, il problema è quello che si dipinge un nord cinico evasore che non paga le tasse, ma c'è un sud che ha dei seri problemi, non di certo dovuti ai cittadini per bene, non di certo dovuti agli imprenditori che lavorano, ma dei seri problemi di legalità, è di questo che lo Stato si dovrebbe far carico. La piccola media impresa fa innovazione già per definizione, nel senso che l'innovazione della piccola media impresa io la definisco innovazione da sottoscala, ogni giorno l'imprenditore si inventa un qualcosa di nuovo e cerca di trovarne la soluzione, farla emergere significa far formazione all'imprenditore per fargli comprendere che sta facendo il suo malgrado di innovazione e stimolarlo invece magari con incentivi alla piccola media impresa a condividere l'innovazione che sta mettendo a punto. Per quanto riguarda l'Alitalia c'è una domanda che più tardi vorrei fare a fini, spero di fargliela, le do un'anticipazione, volevo chiedergli se si è pentito del fatto che quando all'epoca era al governo qualcuno di Forza Italia, se non erro fu Tremonti, stava per portare il libro in tribunale dell'Alitalia e qualcuno di Alleanza Nazionale, se non erro e non erro, dovrebbe essere stato l'ex ministro dell'agricoltura, Alemanno, dovrebbe essere stato, non mi veniva, bloccò questa cosa. Secondo noi le aziende che possono stare sul mercato sono solo le aziende in grado di stare sul mercato, non si può tenere in vita un moribondo attaccato la macchina.